Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con zucchine e gamberetti. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, zucchine tagliata a dadini, gamberetti, vino bianco, olio evo, pomodorini divisi in quarti, spicco d'aglio senza anima, prezzemolo, sale, pepe e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'aglio, l'olio, e lo facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungiamo le zucchine, i pomodorini, i gamberetti, un pizzico di sale, il pepe e il vino bianco. Aggiungiamo il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungiamo l'acqua e portiamo a ebollizione per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungiamo il sale, e la pasta. La manigliamo con la spatola e facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 10 minuti, 10 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità 1. Aggiungiamo il bimbi per 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 il bimbi. Aggiungiamo il bimbi per il bimbi.